...italiano, non la prendiamo, 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 non la prendiamo. Ok, dice, mostrano Tantines, che per lui è stato complicato seguire il discorso di Matteo, perché non capisce mai in italiano e quindi si sente un po' di sanno per lui. No, sicuramente abbiamo stato engaños, abbiamo venuto a parlare del fútbol, non la prendiamo, non la prendiamo, non la prendiamo, non la prendiamo, non la prendiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie.